Tutte le letture di oggi sembrano convergere a un annuncio, quello del giorno del Signore, il giorno in cui il Signore verrà, dinanzi alla quale l'invite è quello di vegliare. Solo la parola vuole aiutarci ad andare più in profondità e non pensare il giorno del Signore solo come la fine dei tempi, ma vivere tutto il nostro tempo, tutta la nostra storia come il giorno del Signore, in cui il Signore continuamente viene e questo vegliare ci libera da tre tentazioni, la mediocrità, la monotonia, la menzogna, la mediocrità, vivere in modo mediocre, o meglio sopravvivere alla nostra vita, cercare di raccampare, questo è quello che purtroppo potrebbe caratterizzare, ma anche la monotonia, cioè vivere una vita senza gusto, senza sapore, di colore bianco e nero, che non dà vita e alla fine la menzogna, perché questa è menzogna, perché la vita è qualcosa di straordinario, nella vita c'è sempre qualcos'altro ed è Gesù Cristo che vive e viene a visitarci ogni giorno in questa nostra esistenza. Buon amissimo.